Live a Music Village, bravi, bravi, puntuali, bravi. Allora, prima di tutto vado a presentare la commissione artistica di questa sera, Ronny Aglietti, bassista, professionista, produttore, Andrea Piraz, produttore, discografico, Marco Verteramo di MK Records, un bel applauso alla commissione di questa sera. E andiamo a presentare subito la prima band, Anestesia Emozionale. Loro vengono dalla provincia di Avellino, Grange, il loro genere, un progetto che portano avanti dal 2009 e sono Carmine al basso, Emiliano alla batteria, Carlo alla chitarra, la voce è Simona, Anestesia Emozionale. Buonasera. Ciao. Ciao, brava. Io ho appena pensato che ero a sui. Puoi solitary Una scrittura Per rumori Laura allealtra Shhh E andro E andro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti